Colors of Life La spirulina maxima risulta essere di grande aiuto nei periodi in cui stanchezza ed affaticamento hanno la meglio, come ad esempio i cambi di stagione o i periodi di particolare stress psicofisico. È anche un ottimo integratore per sportivi, grazie all'importante presenza di aminoacidi e proteine, componenti utili per ricostituire la fibra muscolare in seguito all'attività fisica. Spirulina maxima di Colors of Life garantisce l'alta qualità della materia prima caratterizzata dalla presenza di un'alta percentuale di proteine, oltre il 60%, la presenza di aminoacidi essenziali, di acidi grassi insaturi, oltre che di svariati pigmenti dalle proprietà antiossidanti, in particolare carotenoidi e clorofilla, vitamine e minerali. L'alta percentuale di proteine è certamente un punto di forza della spirulina maxima, che può raggiungere valori superiori al 70% sul peso secco. Una in particolare la caratterizza, ovvero la C-ficocianina, un pigmento blu solubile in acqua che copre circa il 20% della quota proteica. Oltre alle proteine è importante la presenza di aminoacidi, soprattutto quelli essenziali, cioè quegli aminoacidi che non siamo in grado di sintetizzare e che quindi dobbiamo per forza assumere con la dieta. La spirulina maxima ne contiene 16, di cui 8 essenziali, tra cui leucina, isoleucina e valina. La presenza di clorofilla e carotenoidi conferiscono proprietà fortemente antiossidanti alla spirulina maxima. Infine, l'apprezzabile quantità di vitamine e minerali la rende ricostituente per eccellenza. Si consiglia di assumere due compresse al giorno con un po' di liquido a piacere. Grazie a tutti.